Abbiamo inserito un archetto direttamente nella cavotta cerebrale e proporrò un omaggio a Enzo Iannacci perché faccio spesso in ambito bolognese dei tributi a Iannacci che potenzialmente è conosciuto e legato a canzoni comiche ma sempre con un retrogusto malinconico. Ne farò due, una piano e voce e una accompagnata da Alex Macchiorelli. La prima ha a che fare col ricordo, è il ricordo della seconda guerra mondiale caccia di San Vittorio. Se le mie quattro compagni rai, è un bel gaino e poi mi, quattro amici, quattro amici, quattro amici e non sui sei mal compagni rai. Venne fare la guerra in Albania, sopra i montagna a Ciappaira, ne che il test dell'Andermann mi fai morir, no, non mi ha pensato. Mami, mamì, 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 quarantali, quarantanotte, a San Vittorio a Ciappaira, dormire gli ampi e le malà. Mami, mamì, mamì, quarantali, quarantanotte, a San Vittorio a Ciappaira, ne che il che faremo. Mami, mamì, 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 mamì. E se mi diceva, li vuoi compare, chuyli figliassi anche senza di te, ma se parlasse io qui la canna, il tuo condono, la tua libertà. Se solo sei, sarete incontento di stare solo, ma chiuso a cattentarci. Mami, 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 quaranta di quaranta noi Ma se abitura c'ha paipò, dormire campi e temata Mami, 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 quaranta di quaranta noi Spattire su e spattire ciò, mi son lecchere che fa l'erro Grazie Ciao 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 Grazie Grazie Grazie